Ciao! In questo video parliamo di una distribuzione particolare chiamata AV-Linux, o italianizzando AV o AV, il cui acronimo sta per audio-video, e infatti il focus principale di tale distro è quello di fornire un ambiente desktop completo orientato alla produzione multimediale, con settaggi ad hoc ed un vasto parco software, tra virgolette, a tema, precaricato. AV-Linux è attualmente basata su MX-Linux e, come vedremo tra un attimo, cerca di non allontanarsi troppo da essa. Basarsi su MX significa però, sostanzialmente, derivare da Debian, e dunque AV-Linux è una distribuzione versatile dotata di un'ampia collezione di tool per la produzione audio e video. Inoltre, include un kernel personalizzato con YourQ-Trading abilitato per prestazioni audio a bassa latenza, può essere eseguita live, con anche la possibilità di attivare la persistenza dei dati direttamente sulla pendrive da cui si esegue l'OS, oppure installata nella memoria interna del PC come sistema operativo generico per le attività quotidiane. AV-Linux esiste da lontano 2008 ed inizialmente era creata semplicemente sfruttando il tool RemasterSys, un programma gratuito ed open-source che consentiva di realizzare versioni custom e live di Debian o sue derivate come Ubuntu. Fino al 2014 il sistema così costruito seguiva una numerazione progressiva con eventuali sottoversioni di avanzamento. L'ultima è stata la 6.0.4 di novembre 2014. Poi c'è stata una prima rivoluzione nel 2016 con la versione 2016.8.30 con la quale si è passati ad un nome di versione corrispondente alla data stessa di rilascio. E tra il 2018 e gli inizi del 2020 la distro ha continuato ad usare tale nomenclatura mentre sotto al cofano si allineava alle ultime versioni di Debian, introduceva nuovi tool e configurazioni custom e sfruttava i repository aggiuntivi di KxStudio, una raccolta di applicazioni e plug-in per la produzione audio così da ridurre gli sforzi nella gestione delle app di terze parti e concentrarsi soltanto sul resto della distribuzione. A partire da fine 2020, però, Glenn MacArthur, colui che segue lo sviluppo di AV-Linux, ha deciso di modificare la base dell'OS eliminando il tool RemasterSys e basando tutto il codice su MX-Linux, distribuzione derivata da Debian, su cui qui sul canale è presente un video focus dettagliato. Da allora quindi per AV vengono seguiti gli avanzamenti di MX che, sì, riconosce AV-Linux consentendo l'uso dei suoi strumenti di costruzione e packaging, ma non offre un supporto ufficiale lasciato completamente nelle mani di MacArthur. Fino al 2022 è quindi continuato il versioning basato sulle date di rilascio, ma a metà febbraio esso è stato nuovamente modificato. Probabilmente, per rendere ancora più evidente il fatto che adesso AV è strettamente legata a MX, si è iniziato a seguire direttamente le numerazioni dell'altra distro e, alla fine, a gennaio 2024 è arrivata AV-Linux MX Edition 23.1 basata su MX-23.1 e Dabbian 12 Bookworm. Pochi giorni dopo il rilascio di tale versione, MX-Linux ha pubblicato MX-23.2, ma trattandosi essenzialmente di un avanzamento minor, è sufficiente lanciare l'upgrade del sistema per ottenere le ultime novità, anzi, in realtà, nonostante il nome AV-Linux 23.1 già in partenza è molto più vicina a MX-23.2 che alla precedente rilasciata ormai un po' di mesi fa. Comunque, la ristrutturazione completa dell'OS, che c'è stata a partire dal 2020 con il rebase su MX, ha portato grandi cambiamenti rispetto al passato. Ad esempio è stato eliminato il supporto alle architetture 32-bit, sono stati tolti gli ambienti desktop XFCE e LXDE, così come la possibilità di usare il Window Manager OpenBox. Glenn McArthur ha dichiarato di non avere più a disposizione il tempo necessario per seguire ogni cosa ed è per questo motivo che sono stati anche rimossi dal sito che ospita del progetto, i forum e qualsiasi altro tipo di supporto diretto. Il tutto, in qualche modo, si è spostato all'interno del forum ufficiale di MX ed in generale AV-Linux si è trasformata, a tutti gli effetti, in una respin di quell'OS. Che cosa cambia, dunque, tra AV e MX? Tanto per cominciare, AV si basa in particolare sull'edizione AHS di MX, cioè quella con l'Advanced Hardware Support, pensata per hardware più moderno e che offre driver grafici e firmware più recenti rispetto alla versione standard di MX. AV-Linux MX Edition, in più, sfrutta il kernel LiquidX anziché quello mainline e poi usa l'ambiente desktop Enlightenment invece che XFCE, KDE o Fluxbox come fa MX. Dopodiché, all'ampia gamma di strumenti MX Tools ereditari da MX, vengono abbinate altre utility personalizzate e specializzate. In generale AV è stato messo a punto per garantire prestazioni audio veloci e a bassa latenza, una perfetta integrazione con Pipewire ed il supporto opzionale per applicazioni audio e plugin di Windows attraverso Wine Staging e Yabridge. L'intero OS viene fornito gratuitamente ed è completamente funzionante anche se fanno eccezione alcune demo di software di terze parti, incluse nell'installazione di default, le cui versioni complete, trattandosi di strumenti professionali sono chiaramente a pagamento. Inoltre, alcune delle app o pacchetti personalizzati inclusi nella distro non sono disponibili in repository esterni, quindi, in caso si volesse per qualche motivo reinstallarli, occorre passare per un FTP messo a disposizione per il download. AV Linux è dunque un OS progettato specificamente per soddisfare le esigenze dei creatori di contenuti multimediali. È ormai compatibile solo con processori x86 e 64-bit ed il suo kernel personalizzato è ottimizzato per offrire capacità di produzione audio a bassa latenza. In particolare, AV Linux ha ricevuto il riconoscimento di piattaforma Linux raccomandata e supportata per Harrison Mixbus, un popolare software per workstation audio digitale. Purtroppo, nel 2024, AV Linux è anche un progetto gestito sostanzialmente, tra virgolette, a tempo perso. È nato in un periodo in lontano 2008, quando il tempo e le risorse a disposizione di chi lo seguiva erano maggiori. Attualmente MacArthur, a suo dire, non può più impegnarsi a tempo pieno nello sviluppo e nel supporto quotidiano dell'OS. Per questo si fa largo affidamento alla base MX, si usano i suoi repository in modo intatto e non ci sono particolari stravolgimenti da quella base. In più, le domande più comuni relative al progetto sono state inserite in un generico video di supporto di quasi 90 minuti linkato in descrizione e, quando il tempo lo consente, MacArthur bazzica il subforum MX Linux Respins e quello di Linux Musicians Distribution dove è possibile contattarlo e esporgli direttamente le proprie domande. Insomma, utilizzare oggi AV Linux MX Edition è sostanzialmente come usare MX Linux, con però il kernel Liquorix attualmente in versione 6.6.9, qualche configurazione ad hoc qui e lì già preimpostata, ed un parco software professionale preinstallato e utile alla creazione di contenuti audio e video. Per questo motivo, a meno di avere la necessità di quegli specifici software e o non sobbarcarsi la rogna di installarli e configurarli, per l'utilizzatore generico probabilmente è meglio puntare direttamente a MX Linux o Debian e, se proprio necessario, magari abilitare i repository KX Studio, backportare gli eventuali tuning o installare le applicazioni qui già precaricate. Comunque, lo sviluppo della versione 23.1 rispetto alla precedente 21.3 ha visto tanto lavoro dietro le quinte, nonché l'introduzione di una serie di nuove funzionalità e modifiche, molte delle quali chiaramente ereditate direttamente dal progetto MX. E quindi, a parte il passaggio da Debian 11 Bullseye a Debian 12 Bookworm, è arrivato anche Pipewire 1.0 che già di suo, per una distro rivolta principalmente alla creazione di contenuti audio e video, è una modifica gigante. A causa della gran quantità e profondità dei cambiamenti rispetto al passato, non esiste un percorso di aggiornamento da AV Linux 21.3 alla nuova versione, cosa che quindi richiede un'installazione da zero. L'ISO è cresciuta fino a ben 5.2 GB, visti kernel sempre più grandi e le tante applicazioni aggiuntive in bundle, più i binari dei plug-in. In ogni caso, l'OS, al di là dei tool multimediali, non ha molto software precaricato, il che è sicuramente un plus. Tra le app già installate troviamo Ardor, Audacity, EVI Demux, Blender, CineLerra, Harrison Mixbus in versione demo, Idrogeno, KadenLive, MuseScore, OpenShot, Reaper in versione demo, più di oltre mille plug-in audio demo, floss e commerciali anche presi in prestito dal mondo Windows ed integrati tramite Yabridge. Dai repository a MixTest, poi, è possibile recuperare versioni più recenti di vari software o altri tool in generale, con pacchetti sicuramente più freschi rispetto a quelli già presenti sui repo Debian di base, e volendo c'è anche un tool che consente velocemente di rimuovere tutte le applicazioni demo se non si desidera averle. Riassumendo, EVI Linux è una respin di MX Linux, non ufficiale, ma seguita direttamente dal suo sviluppatore. Si basa in particolare sull'edizione AHS di MX, che è compatibile con hardware più recente, seppur purtroppo tagli via il supporto alle CPU x86 a 32-bit. Su quella base, da cui eredita la gran parte dei pacchetti e tools, viene aggiunto il kernel LiquorX e poi ci sono diverse applicazioni, plug-in e quant'altro, tra virgolette, a tema, che possono tornare utili ai content creators. In più, è presente qualche tuning qui e lì per facilitare ulteriormente la produzione multimediale, ma per ogni dettaglio si rimanda al lungo focus panoramico pubblicato dallo stesso MacArthur e, nuovamente, linkato nella descrizione di questo video. Dopodiché, EVI Linux MX Edition 23.1 viene fornito con Enlightenment un window manager, compositor e desktop minimale che occupa poche risorse così da liberarne il più possibile per dedicarsi completamente alle app multimediali. Tu che ne pensi? Ritieni utile EVI Linux oppure no? Sei un utilizzatore di applicazioni professionali per audio e video? Ti aspetto nei commenti! Nei prossimi giorni arriveranno nuovi video su altre distribuzioni. Se questo ti è piaciuto iscriviti al canale e soprattutto fammi sapere nei commenti se apprezzi questi respin di distro diffuse pensati però per scopi più specifici. Se hai richieste riguardo altri OS Linux-based per cui vorresti vedere un video dedicato, non esitare a farmelo sapere con un commento qui sotto. È tutto per questa puntata, a presto!